buongiorno amici di dito dell'occhio siamo in pianura padana vedete alle mie spalle il paesaggio tipico della pianura padana località badesse della pianura padana con noi in pianura padana chi poteva venire chi abbiamo invitato oggi a dito nell'occhio il matteo nazionale sì quello vero ora matteo bomba è di firenze l'abbiamo fatto l'altra settimana ma lui è un degno amico del matteo di firenze eccolo qua matteo salvini l'unico vero grande matteo che l'italia tutte e due hanno avuto un po lo stesso percorso hanno iniziato ambe due in televisione facendo i vari concorsi a premi e quix su mediaset e tutte e due hanno iniziato una carriera di cazzate veramente grosse del bomba ne abbiamo parlato l'altra settimana di matteo ne parliamo questa settimana anche perché le sua roba sono un po più fresche matteo iniziamo a parlare un po delle promesse elettorali quante cazzate ci ha raccontato è vero la questione degli immigrati gli ha dato un bel colpo e qui te ne diamo atto sicuramente però per noi non è che per noi imprenditori ma comunque in generale non è fondamentale credimi ce ne sarebbero tanti altri problemi il lavoro le tasse la benzina ti ricordi matteo ci hai promesso lo 0 72 il primo consiglio dei ministri sono passati sei mesi 20 consigli ai ministri e te ne sei scordato dai su vedi di recuperare ci avevi promesso quante cose rispetto alla flat tax pagavamo tutti il 15 per cento nel decreto non si legge niente avevi promesso che riportavi clandestini a casa loro 600 mila persone in sei mesi in ce ne hai riportati 100 ora di questo passo ci vogliono 80 anni 80 anni come i soldi che dovete riportare allo stato italiano voi della lega e sono stati rubati 49 milioni è accertato questo qui e non si può sfuggire ora te lo dico se mi fanno una multarella anche a me voglio lo stesso trattamento in comode 80 rate annuali poi avete fatto voi vabbè però io ti devo dire la verità ancora so positivo ci vedo anche perché matteo il bomba il tuo collega ha ammazzato comunisti te sei sulla strada buona da ammazzare grillini e non mi sembra una cosa proprio proprio negativa questa è però ora in passato ti ricordi ma te l'avevi coterroni lava lì col fuoco o vesuvio lava lì col fuoco ti ricordi la cantavi te questa è poi volevi entrare nei kebab nei centri d'accoglienza lancia fiamme ma non è che ora guarda ma non è che ora ce l'hai un po con noi sì perché tollerare a capo di certi ministeri certi personaggi di incapacità totale come sono i tuoi grillini mi sembra che tu ce l'abbia un po con noi in questo vabbè risolvi presto dopo le europee più tardi no è perché poi un casino la verità fa male ma un dito nell'occhio è peggio ciao